Il presidente israeliano Reuven Rivlin è in Germania per una visita di Stato di quattro giorni. Ricevuto dal presidente tedesco Joachim Gauk al Palazzo Bellevue, il capo dello Stato ebraico si è poi recato al memorial del binario 17 della stazione Grunwald, dove 50.000 ebrei partirono tra il 1941 e il 1945, alla volta dei campi di concentramento. Si celebra il settantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche i 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Germania e Israele. La democrazia non ci rende da sola immuni dal nazionalismo e dal fascismo. Nessuna nazione è immune dall'antisemitismo. Qui al binario 17 dobbiamo impegnarci a guardare l'odio in faccia. Le crisi medio orientali e il conflitto israelo-palestinese sono nell'agenda dei colloqui al vertice durante i quattro giorni di visita. Sono molto contenta che il presidente israeliano sia in Germania in occasione dei 50 anni delle nostre relazioni. In Germania crediamo che la soluzione dei due stati sia la strada per assicurare la pace in Medio Oriente. Rivlin invece si è sempre dichiarato contrario alla soluzione dei due stati, israeliano e palestinese. La discussione dunque è aperta.